Buongiorno Simona Polverino, ci troviamo qui in piazza Cota a Piano di Sorrento. Che cosa c'è stamattina? Buongiorno a tutti, oggi inauguriamo il taxi solidale con il patrocinio morale del comune di Piano di Sorrento. Un taxi solidale che verrà dato il comodato, duro, gratuito dalla Mobility Line, ad una società cooperativa, We Have a Dream, per il trasporto gratuito di disabili, anziani e tutte quelle persone che sono in un momentaneo stato di difficoltà motoria per 4 anni. Il mezzo verrà dato mantenuto di tutti i costi, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, tassa di proprietà e mezzo sostitutivo in caso di fermo profondato per 4 anni. Il servizio gratuito sarà rivolto a tutti i disabili del residenzio del comune di Piano di Sorrento. Sarà attivo 10 ore al giorno, tutti i giorni e sarà prenotabile attraverso una chiamata da effettuare almeno 48 ore prima, direttamente alla società cooperativa We Have a Dream che ha diffuso i numeri di telefono e i contatti per prenotare il servizio. Perfetto, grazie. Grazie.